lo sapevate che chi fa un lavoro di studio o di intelletto ha bisogno di cibo specifico che non nutra solo il corpo ma anche il cervello perché deve fare tante più connessioni neuronali per mantenere sveglia la concentrazione e attivo il ragionamento ci sono alcuni accorgimenti da seguire come sempre partiamo dalla tavola queste quattro regole generali sono valide per tutti e sono sicura che tutti le conoscono ma pochi le seguono 1 mangiare cibi nutrienti ma leggeri per non abbiocarsi quando è il momento di concentrarsi 2 mangiare orari regolari per non sovrapporre i tempi della digestione a quelli dello studio o del lavoro intellettuale 3 evitare di saltare i pasti per non restare a corto di carburante 4 evitare i nemici della concentrazione i dolci e gli alcolici sì ma come nutro i miei neuroni saranno anche pochi ma hanno fame lo capisco ecco gli alimenti che non devono mai mancare pesce azzurro o dei mari freddi salmone sgombro merluzzo e sardine sono particolarmente ricchi di vitamina d e omega 3 mantengono sane le cellule cerebrali e attiva la memoria frutta secca e legumi ricchi di omega 3 omega 6 vitamina e vitamina b zinco e magnesio sono energetici rafforzano la determinazione e la concentrazione frutta verdura ortaggi di stagione sono pieni di antiossidanti ed enzimi che mantengono giovani le cellule cerebrali anche chi è giovane fa bene a fare già il pieno di questi nutrienti e mantenersi attivo mentalmente uova sono un'ottima fonte di proteine con vitamine e minerali utili per la memoria perfette per chi è sotto stress mentale soprattutto a colazione per iniziare bene la giornata acqua senza acqua il cervello non lavora soprattutto quando fuori fa caldo o siamo all'interno con il riscaldamento o l'aria condizionata bisogna avere sempre con noi la nostra bottiglietta d'acqua naturale e non troppo fredda oltre a questo è importante dormire almeno 8 ore ogni notte per sentirsi rigenerati quando ci si sveglia e fare almeno 30 minuti di movimento ogni giorno così si muovono i muscoli e si stimola la circolazione che porta sangue in tutti i distretti fino al cervello se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao